Forse qui siamo fuori di testa, cioè qua dobbiamo riportare i concetti, ma ci può stare, siamo venuti con tante assenze contro una grandissima squadra. Non avevamo assenze, va bene. Va bene, va bene, ascolti, io la stimo, se lei mi fa delle domande a me, la conferenza stampa è mia, quello che ha detto il Presidente, mi fa delle domande a me, io rispondo. Se non avevamo assenze, è bene, vuol dire che non sono considerati i giocatori che avevamo fuori, per l'amor del cielo. Bene, intanto buonasera e chiedo scusa. Come calco della probabilità, dopo tante partite importanti, si portano una squadra? Ma questa è una squadra giovane che può perdere e vincere contro chiunque. Il grande rammarico è che non abbiamo subito un tiro in porta. Abbiamo preparato benissimo la partita, abbiamo perso dove, purtroppo, loro erano furti. Io avevo deciso di dare consistenza in ampiezza, perciò ho giocato col 3-5-2, perché loro li avevo studiati e si allargavano con l'intermedio e col terzino, per non farli andare al cross, a prescindere le assenze che avevamo. Avevo imbruttito la partita, purtroppo, quando hai una squadra giovanissima, Bove, il primo tempo, è stato devastante in negativo, ed è un ragazzo che io amo calcisticamente, e ho dovuto mettere, va all'occhio, che è un grosso giocatore esterno, di che ne pensiate voi, a fare l'intermedio. Quindi, voi che siete dei giornalisti importantissimi, ha scoperto la palla in mezzo al campo, hanno recuperato palla, Parodi ha messo una gran palla e poi c'è la bravura e la qualità del giocatore, perché penso che Marchi ha fatto un gol d'applausi. Quindi, voglio dire, gli abbiamo concesso un cross. Un cross, è stato bravissimo, ha attaccato il primo spazio inserendosi da dietro e ha messo palla sul secondo. Penso che il risultato più giusto era il pareggio. Io ai miei ragazzi posso soltanto fargli i complimenti. Abbiamo avuto anche una reazione dopo l'1-0. Abbiamo cercato di variare il sistema di gioco con gli interpreti che avevamo, perché avevo due sostituzioni in panchina, il resto avevo gli esordienti. Poi, se mi dite che non ci mancava nessuno, allora va bene. Ho capito, e vabbè. Allora, a quindi, chiedovenia, mi dica, buonasera innanzitutto. A me è sembrata la San Benedettese la squadra superiore alla Feraltese. Ma questo mi... Ma la San Benedettese, intanto la Feral Pisanò, le assicuro, direttore, che per me come potenziale umano è la squadra forse più forte insieme al Padove e la Reggiana. la Feral Pisanò ha fatto delle sostituzioni e, attenzione, aveva legati in panchina, aveva emerso fuori, è entrato Parodi, è entrato Marchetti, via. La mia banda di ragazzini ha tenuto testo, ha tenuto testo sotto segmenti tattici, dove noi sapevamo dove era la loro forza, l'abbiamo preparata benissimo durante la settimana, nell'accoppiarci, perché sapevamo che Dettori si apriva, è stato bravo l'allenatore loro alla fine del primo tempo a vedere Bove in netta difficoltà e ha cambiato Rocca con Dettori sugli esterni. Lì era una sostituzione da fare dopo 20 minuti, siccome io sono una persona per bene e non ce l'ho nell'indole, perché poi chi è un buono difficilmente interviene. Io speravo che il primo tempo finisse 0-0, abbiamo fatto questa doppia sostituzione, arrivo subito, e abbiamo perso una partita per bravura e per la qualità balistica di un grosso giocatore, però il dammarico enorme mio, che eravamo noi in possesso di palla. Secondo me, chi fa l'oculista non può fare il ginecologo e viceversa. Poi magari possono essere anche due bravissimi dottori nel proprio campo. Cosa voglio dire? Che c'è il ruolo nella vita. Se io sono un fenomeno come esterno, come attaccante, mi metti a fare il difensore, magari una palla non l'attacco. È la stessa cosa di un giocatore molto bravo che ha tentato di coprire, poi nello scoprire, una palla in mezzo al campo, palla larga e abbiamo preso gol su ripartenza. Quella è la cosa più brutta. Avessimo preso gol su difesa schierata, anche se c'è la qualità illimitata di un giocatore come Parodi che ha messo una palla e poi la bravura di Marchi. Senta, ci può chiarire che è successo alla fine al 94-esimo quando reclamavano qualcosa? Quello è più isterismo. Cioè, poteva essere... Cioè, poteva essere... No, secondo me era calcio d'angolo al limite. Per me l'arbitro ha arbitrato bene. Probabilmente i tre minuti, quattro minuti di reguoro, però c'è lì magari... Non reclamavano il rigore? Perché il rigore non c'era. Ma nessuno ha reclamato il rigore. All'ultimo istante probabilmente i miei giocatori reclamavano un calcio d'angolo, ma nessuno ha reclamato il calcio di... Ma io non ricordo l'angolo. Sì, sì. Come il nostro. Ma dove l'ha fatta? Sull'1-0, via. La palla è in me. E allora lì non c'è più... Eravamo... Nemmeno il portiere nostro ha fatto una parata. E voglio dire... Ha fatto una, ha evitato le due. Eh, è il portiere... Ho capito. Fino allo 0-0 non la fa. Anche il vostro portiere ha fatto la parata. Se gliela lascia lì andiamo noi in vantaggio, no? Sulla palla... Va bene. Posso? Posso? Beh, che... Quattro giocatori ha bisogno lei? Io no, io... Adesso. Ascolti... Sul mercato. Io non parlo di mercato, alleno quello che c'ho. Lei ha visto la squadra, se vuole la distinta, e c'ho la squadra più giovane d'Europa. No, no, non tenco nulla. Va bene così. Ho perso contro una grande squadra. Complimenti alla Feral Pisalò senza fare polemiche. Nulla, mi servono 12 giocatori. Ha detto una grande cosa il dottor Pasini. Quando è uscito. Ha detto chi se lo può permettere regna l'abbondanza. Ha detto una cosa del genere. Beato il Feral Pisalò e beato chi se lo può permettere. Al prossimo episodio Grazie a tutti.